Benvenuti al Fastuca Fest, la quarta edizione della festa del pistacchio di Raffa Dali. Siamo qui già stasera, 21 settembre, e saremo qui anche domani, 22 settembre e domenica 23 settembre, per farvi degustare tantissimi piatti a base di pistacchio, l'unico protagonista assoluto del Fastuca Fest. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!